Ultimi 90 minuti della stagione regolare per il giornale di promozione. In Rival Lago Trasimeno il Mara San Feliciano ospita il Piccione. In palio tre punti ancora fondamentali per la corsa all'ultimo posto di playoff promozione. Dirige l'incontro Pieretti di Perugia, coaggiuvato agli assistenti Amici d'Argenti di Foligno. Primo timino a fondo ospita all'ottavo, cross dalla sinistra sul secondo palo, Caccia di testa a Giralato. Risponde il Mara al dodicesimo con Bartuccini, cross al centro per Spiaggia, che di testa mette la palla sul fondo. Quattordicesimo minuto, ospita ancora in avanti, palla bassa centrale per Biancalana, che conclui la botta sicura ma colpisce il palo. L'azione continua con il numero 11 bianco-blu che si vede rimurato per ben due volte dai difensori lacustri. Intorno alla mezz'ora il Mara comincia ad aumentare la pressione offensiva, schiacciando gli ospiti nella propria metà campo. Al ventisettesimo, trasversione sul secondo palo di Miccio, spiaggia scivolata e impegna Caccia all'addiviazione in corner. Trentaquattesimo minuto, Bartuccini serve la corrente Miccio, che di prima intenzione impegna ancora Caccia all'apparata in tuffo. Finale di tempo con il Mara ancora in attacco. Il quarantesimo minuto, Miccio, la posizione defilata, calcia direttamente a rete. L'estremo difensore ospite respinge ancora. Si riparte con la seconda frazione ed i padroni di casa capitalizzano subito il proprio pressing offensivo. Uno due in area di rigore, Bartuccini, Miccio-Bartuccini con quest'ultimo che di precisione batte Caccia sul palo corto. Esigla il gol vittoria. Stenta la gira il piccione che torna pericoloso soltanto al ventisettesimo. Malocai, cross a basso sul primo palo dove un solissimo Acitelli spreca la ghiotta occasione sparando alto sopra la traversa. Mara che sembra poter controllare la partita in questo secondo tempo. Ed ospiti che si fanno vedere pericolosi soltanto al quarantesimo minuto. Occasioni in contropiede, Malo e Grucci spreca in malo modo la palla fornita. Prima del triplice fischio c'è ancora tempo per un'ultima occasione Mara. Traversione dalla destra sul secondo palo. Miccio giù al volo conclude fuori. Termina qui l'incontro. Il Mara San Feliciano vince e concretizza il sogno playoff. Sì, un gol che ci fa prodare nei playoff. Il secondo obiettivo stagionale che ci siamo prefissati dopo la salvezza. Ora proviamo a sognare, a fare qualcosa in più per il terzo obiettivo stagionale. Non si sa mai, ce la giochiamo. Faccio i complimenti a Claudian e alla sua squadra perché hanno fatto un girone di ritorno fantastico e oggi hanno dimostrato tutto il loro valore in campo. Sì, hai detto tutto te. Abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Siamo molto soddisfatti. Ci abbiamo provato anche oggi, come si è visto, per approdare i playoff. Ci siamo riusciti. Faccio i complimenti a loro, a Samuele in primis, che ha trascinato questa squadra ai playoff. E faccio un grosso in bocca al lupo da ex compagno e da amico. Crepi.